Credo che la Juve oggi sia nelle condizioni di valutare tutte le offerte che gli arriveranno per qualsiasi giocatore, poi si farà delle scelte prima di tutto sull'allenatore, poi una volta che sceglieranno l'allenatore che rimarrà allegri, andrà via allegri, arriverà con qualsiasi allenatore, parlando con l'allenatore diranno dimmi chi sono secondo te gli incedibili e poi dopo gli altri li vendiamo. Per me vanno via sia allegri che chiesa e non andranno nella stessa squadra. Questo lo potevo immaginare, assolutamente sì.